Negli istituti scolastici si deve appunto parlare di questo fenomeno, del fenomeno del cyberbullismo. Infatti nel nostro paese una legge del 29 maggio 2017 ha proprio previsto che ai fini di prevenire il fenomeno del cyberbullismo si facciano degli incontri soprattutto negli istituti scolastici per rendere consapevoli sia i soggetti che possono incorrere nel comportamento appunto di questi illeciti sia le vittime di queste condotte di quali possono essere le conseguenze delle loro attività. Grazie mille.